secondo me la roba usata io personalmente uso un s4 mini usato metto a manetta il coso il la risoluzione video e non mi interessa niente ragazzi ormai video vanno bene a parte quando non ho così ragazzi ho fatto lo stabilizzatore ogni tanto carlotta deve buonasera anche la camperezza escondite allora qualsiasi vista è carlotta scusate ragazzo salutando una carlotta che mi oggi mia mi ha fatto un commento sul po è poi grande se guardi l'inizio della live i primi minuti la vedi carlotta si gg video spontanei perché no ho tutta la collezione di udi scusate lo sbadiglio ma cos'è che ho fatto io ho alzato la sticella della qualità e beh roberto io ti dico alla fine mi puoi io penso che uno ok errori poi dipende perché c'è se magari metto dentro mi è capitato di dire delle cavolate magari metti dentro un pezzettino di video prima o dopo tante volte mi piace fare un video al giorno ma perché mi piace bella tai 21 aspetta che amore non sono ancora lì e vive i campersi e full timer tai esatto monica seta hai detto bene hai detto bene monica certo tu hai un canale è monica così vado a vedere quello che fai vado a vedere i tuoi lavori se vuoi a basso stai facendo il caldo dell'ipad addirittura dai nomi